Bentornati ragazzi sono Saladar52 e oggi continuiamo la nostra avventura su The Last of Us parte 1 remake Nello scorso episodio siamo andati a prendere Ellie che era scappata rubando un cavallo a Tommy L'abbiamo trovata in un ranch perché se n'è scappata perché Joel la voleva lasciare a Tommy Lei l'aveva capito e quindi se n'era andata Joel arrabbiatissimo la siamo andati a recuperare e quindi la prima cosa che aveva in mente Joel Era quella di lasciarla a Tommy e l'accompagnava alle luci così se ne lavava le mani Poi alla fine Joel si è convinto a continuare il viaggio e quindi ora siamo ormai all'università Quindi nello scorso episodio ho scritto verso l'università se ricordo bene Qui invece vi posso dire che siamo già dentro l'università quindi ormai ci siamo arrivati E l'obiettivo di questo episodio è finire l'università quindi non fa niente quanto tempo ci metterò Vi dico che finiremo l'università perché non voglio dividerlo in due episodi E vi ricordo anche che nello scorso episodio abbiamo preso un sacco di collezionabili Quindi se l'avete perso recuperatelo se ovviamente volete vedere la posizione di tutti i collezionabili Perché come prima cosa di certo sto giocando perché voglio vedere tutte le grafiche bellissime Anche perché il gioco mi piace e tutto il resto ma anche perché voglio prendere tutti i trofei 18 gennaio, 9 mesi di attesa e ancora niente, neanche una parola, da nessuno Ho trovato altre scatole di cibo nelle cucine ma non dureranno C'è stato un problema con la barricata della sala est ma è ancora tutto sotto controllo 31 gennaio, ho adocchiato un gruppo di quegli affari che correva qua e là Ne ho visto uno che sembrava ether, forse era ether, merda 10 febbraio, dato che le batterie stanno finendo ora ascolto la radio solo una volta per notte Ho lasciato perdere dopo l'ultima trasmissione, sono passati 3 cazzo di mesi, perché ci perdono tempo? 25 febbraio, Cheryl stava fumando fuori ieri, ha detto che ne aveva bisogno Si è arrabbiata quando ha buttato le sue scorte, non capisce, dobbiamo restare lucidi qui Qualcuno dovrà andare in città per fare provviste, probabilmente toccherà a me Potremmo provare ad ipotizzare da quante che stanno qui, ecco l'ha detto anche Joel Ma in realtà è una data a caso, perché parte da gennaio e 19 mesi fa Solo che se era il gennaio del 2014 non può essere di certo 9 mesi fa Perché da gennaio al ritroso fino a settembre sono 4 i mesi, forse 5, sì, più o meno lì Quindi non può essere di certo il 2014, sicuramente anni più avanti Quindi direi che in realtà non possiamo provare ad ipotizzare che anno fosse Perché uno era possibile, gli altri no, perché tutti gli anni possono essere giusti Se proprio vogliamo dirle tutte, una cosa da dire è che Visto che magari quello che ha scritto era uno studente dell'università Può essere che siamo sempre verso il 2013 Quindi forse sono passati pochi gli anni da quando è scoppiato tutto questo Quindi più o meno si potrebbe ipotizzare che siamo tra il 2014 e il 2020 Dai facciamo così Comunque, tecnicamente c'è un altro foglio Ma forse in realtà si trova dopo, dopo la zona che c'è qui di sotto Quindi direi di andare avanti Poi se non trovo questo foglio allora è un problema Lasciamo perdere Per adesso vi dico prima di schippare, non lo farò, questa zona Non la schippate perché il bloader che si trova qui lo dovete uccidere per forza Se volete prendere il trofeo di tutte le piastrine Perché il bloader quando lo uccidete vi dropperà una piastrina Il bloader non è l'unico pericolo che si trova qui Ci sono circa tre, forse quattro clicker Due si muovono e due stanno fermi Quindi in realtà quattro e non tre Quello fermo eccolo là nel bagno Ce ne dovrebbe essere un altro fermo nel corridoio L'altro che si muove invece dovrebbe riuscire ad arrivare qui Quindi fate attenzione perché se vi muovete troppo velocemente vi sentirà il clicker Comunque in questa zona c'è solamente la piastrina Che ho detto Cioè dovete uccidere il bloader per prenderla Poi dovete prendere il foglio che si trova dopo questa zona Come ho detto prima Comunque adesso proviamo quindi Ad uccidere gli altri due clicker stealth Se non ci riesco ok Dovrei riuscirci perché l'altro è fermo Quindi se sbaglio questa freccia Posso ritirarmi dal gioco Allora quindi il clicker dov'è che si trova Ah ma in realtà ok Posso accendere la torcia giustamente Uno perché sono ciechi Ma in realtà anche se fossero stati runner Avrei potuto accenderla perché non avrebbero visto la luce Solamente gameplay questo però Almeno credo Comunque tocca al bloader Quindi direi di ucciderlo in un modo più divertente possibile Quindi doppia bomba di chiodi Una laggiù così Appena si muove la prende E nel frattempo Non doveva andare a finire così Era lontana l'altra Perché è esplosa Va bene lasciamo vedere Il bloader non sa ancora che ci sono Semplicemente ha sentito il rumore Quindi sta venendo dove c'è stato il rumore Ma tra poco mi faccio sentire Però a questo punto facciamo che No comunque mi ha sentito un po' troppo presto Però il fuoco dovrebbe riuscire a sconfiggere questo bloader Quindi appena entra dalla porta Vai Joel usa lanciafiamme Non siamo in pokemon Però con 90 di carburante nel lanciafiamme Ok Riesce a resistere fino a raggiungermi addirittura Però dovrebbe riuscire a morire Ok è morto ma a questo punto direi di consumare tutto il carburante Vi ho detto che in realtà che il lanciafiamme non l'avrei voluto utilizzare così tanto In realtà non lo utilizzeremo così tanto Però se il gioco continua a darmi il carburante A sto punto lo possiamo utilizzare Magari giusto contro gli ultimi bloader che rimangono Che il minimo è 3 E questo lo so per certo Non so se ce ne saranno altri Ci sto pensando Credo di no Credo di no quindi 3 Totale Anzi in realtà 4 per un'altra cosa Ma stavo pensando solo con Joel Comunque Come ho detto Non ci dovrebbe essere nient'altro di collezionabile Però di utile per fare delle creazioni Sì quindi Mi giro un po' questa zona E facciamo che taglio Ma sì Perché il video sarà a lungo già di suo Diriggiamoci quindi verso la porta Perché ho esplorato tutto Ho preso tutto quello che mi serviva Qui Se riuscite a fare tutto stealth In che in realtà è abbastanza facile Potete anche uccidere il clicker fermo nel bagno Col coltello E avete fatto Però poi vi toglie solamente un utilizzo E' una cosa che mi da molto fastidio Però potete utilizzare una freccia E il risultato è uguale Perché tanto sempre stealth è Però se riuscite a fare tutto stealth Potete anche provare ad aprire la porta E se fate così Il bloder inizierà a seguirvi Ma non ci riuscirà a prendervi E' fatto proprio apposta questa cosa Solo che vi metterà Magari a chi ne soffre Un po' di ansia Perché state vedendo un coso enorme Che vi viene addosso E non sapete Se state riuscendo ad aprire la porta Oppure no Allora quindi Come ho detto prima Dovrebbe esserci un foglio da leggere E si dovrebbe trovare in questa stanza So che dovrebbe trovarsi dietro di me Quindi prima di girarmi e scoprire che non si trova Ok ci sta Perfetto E purtroppo ho sempre paura Che qualcosa poi non la trovo L'esercito degli Stati Uniti Interrompe le ricerche Di Lev Benioff Corrispondente sul campo In seguito all'ultimo rapporto Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Secondo le cui stime Almeno il 60% della popolazione mondiale Sarebbe deceduta O infetta dall'epidemia di ICC L'esercito degli Stati Uniti Ha rilasciato un comunicato In cui si annuncia L'abbandono delle operazioni di ricerca Le regioni comprese ento 10 miglia Dal perimetro di ogni zona di quarantena Saranno pattugliate in cerca di cittadini Che vogliono accedervi Ma non saranno compiuti ulteriori sforzi Per evacuare coloro Che potrebbero essere intrappolati In zone difficili da raggiungere Il procuratore generale Arthur Monroe L'ha chiarito in una lettera L'ho trovato in città Che cazzo significa? Che non verrà nessuno ad aiutarci? Direi che è molto chiaro Dove vuole andare a parare questo biglietto Quindi non c'è bisogno di spiegazioni Semplicemente È normale Una cosa del genere E mi fa strano leggere il 60% Della popolazione mondiale Ma qua dov'è che si va? Ah ma da qua è dove sono venuto? Ok niente Perché giustamente Esco dalla porta E vado subito a destra Per il documento Invece di andare a sinistra E uscire fuori Giusto per farvi capire Su 7 miliardi di persone Cioè la popolazione mondiale In realtà sono un po' di più Però facciamo 7 miliardi Come numero preciso Il 60% di 7 miliardi È più della metà ovviamente Perché non è il 50% Significa che sono 4 miliardi E 200 milioni Di persone O morte O infette Quelle infette In realtà Non so Come si può Provare a contare E nemmeno in realtà I morti Perché qualcuno che è morto in casa A meno che non si sono fatti Casa per casa È difficile Dare un dato del genere Però Diciamo che Va bene Il 60% Dopo una cosa del genere E non si sa Di quando era Quel biglietto Perché non c'era Nessuna data Quindi proviamo ad ipotizzare Visto che è stato scritto Sopra quel biglietto Dallo studente Che magari ha scritto Anche quelli che abbiamo preso prima Che vuol dire Che il 60% È accaduto Se vogliamo dire Lo stesso numero di prima Tra il 2014 E il 2020 Quindi come dato È allucinante Perché solo E ormai ne sono passati 20 Quindi sì Solo 6 anni Se proviamo ad ipotizzare Fino al 2020 7 in realtà Perché è dal 2013 Però facciamo dal 2014 Quindi facciamo che in 6 anni Praticamente Oltre La metà Della popolazione mondiale È morta Praticamente Perché ormai Sì sei infetto Sei vivo Ma in realtà sei morto Comunque Quello che ha detto prima Ellie Che fossero luci I clicker Che abbiamo trovato lì Joel ha risposto di no Ma in realtà Joel sa bene Che sono luci Perché il bloder Che abbiamo ucciso prima Aveva una piastrina Quindi vuol dire Che quel bloder Prima era una luce E vuol dire Visto che era un bloder Che era da lì Da tanti anni Tantissimi anni Come vedete Ormai Ellie Non pensa ad altro Che trovare una luce in vita Perché ormai Il suo obiettivo È quello di arrivare Dalle luci E aiutare A creare il vaccino Perché ovviamente Serve lei Comunque L'università In realtà ormai L'abbiamo finita Questo dovrebbe essere Il palazzo scientifico Ma in realtà Forse credo Si chiami università Anche questo palazzo qui Lasciamo stare Comunque Quello che ho detto prima È che voglio arrivare Alla fine Del palazzo Che dobbiamo fare adesso O palazzo scientifico O università Lo finiamo Poco ma sicuro Ormai ho deciso Quindi C'è un banco da lavoro E ovviamente Vi faccio vedere Il banco da lavoro Dove si trova Ma forse questa volta E credo che sia Sia e sarà L'unica Taglierò Le animazioni Delle modifiche Farò semplicemente Le modifiche E basta Perché Quello allungano Di un sacco il video Poi magari in realtà In base a quanto Durerà il video Deciderò se Lasciarle oppure no Però Prima Di andare Dal banco da lavoro Che in realtà Si trova subito Appena saliamo Come mio solito Voglio prima Arrivare ad esplorare tutto Perché ovviamente Ci sono delle ghiere E ce ne sono tante Di ghiere da prendere Anche perché Abbiamo anche una porta Ad aprire col coltello Ciò significa Che ci troviamo 50 ghiere dentro Ormai è standard Quindi Prima esploriamo Vi faccio vedere Esplorando Dove si trovano Le ghiere Così magari Andate direttamente Dove si trovano Le ghiere E dove sta la porta E anche il banco da lavoro Ma in realtà Il banco da lavoro È facile Semplicemente Entrate E subito a sinistra Entrando in questa porta Il banco da lavoro E qui in questa stanza Si trova Alle mie spalle Solo che Voglio prendere Le ghiere che si trovano qua Quante sono? 25 Quindi già In totale Ne abbiamo 75 di ghiere Perché so Per certo Che ce ne sono 50 Nella porta Le dobbiamo aprire Con il coltello La luce Per farla cadere a terra E si poteva fare Anche un bug Perché girandola La luce Attraversava il muro Divertente È una cosa Che non doveva capitare Però Mettere che Andando a sbattere Non si muove È brutto È brutto Mi sono messo Mi sono messo a creare Delle cose Apposta Per perdere tempo E non entrare Nella porta Aperta Col coltello Perché Ellie ha iniziato A parlare Comunque Attrezzi Di livello 4 4 Giusto Motivo per cui Non mi sono messo Già al lavoro Sul banco da lavoro Sì Di livello 4 C'è anche Ancora altri potenziamenti Che cos'è Questo potenziamento Ormai è inutile leggere Molto potenziate Perfetto Non lo ricordavo Questo Le 50 ghiere Si trovano sul tavolo E altre pillole Va benissimo Allora Quindi significa Che questa porta La dovete fare Perché Non potrete Arrivare Agli strumenti Cioè attrezzi Di livello 5 Se non prendete Quelli di livello 4 Ovviamente Anche se in realtà Quelli Ve li caccia Sempre Durante il gioco Quindi forse Prima o poi Ve li mette davanti E quindi li trovate Per forza Comunque Abbiamo preso Un sacco di ghiere Qua dentro Cosa c'è Altre 5 ghiere Va benissimo Andiamo a potenziare E come detto Però questa volta Taglierò Le animazioni Dei potenziamenti Forse tutti i potenziamenti Allora Ho potenziato Solo Le armi lunghe Cecchino Pompa E arco Quelle corte No Ma tanto Le pistole In realtà In questo momento Sono più che inutili Da potenziare Ho fatto Il pompa Al massimo Che posso Permettermi E anche Il caccia Semplicemente Perché non ho I attrezzi Di livello 5 E quindi Non lo posso fare Vabbè Mi ritengo Semplicemente Soddisfatto Avevo Più di 200 ghiere C'è un bug In originale Che è Semplicemente Bellissimo E divertentissimo E non so Perché capita In realtà Però ovviamente Non l'ho programmato Io il gioco Quindi non lo so Perché succede Una cosa del genere Una volta Che No Vabbè Dobbiamo ascoltare Prima questo registratore Stavo dicendo Quindi Una volta Che abbiamo Visto Le scimmie Sì Vedremo delle scimmie Tra poco Quando avremo aperto L'ultima porta Che c'è da aprire Tornando indietro Giù Nella Porta Non so Quale porta Comunque Tornando giù C'è una scimmia Buggata Nella T-Pause Che è come L'hanno creata Ferma davanti La porta E Fa semplicemente Ridere Andare lì E vedere Quella scimmia Lì In T-Pause È bellissimo Vorrei provarci Solo che non mi va di perdere tempo Quindi ci proverò Quando farò la mia seconda run Quindi non posso dirvi se C'è il bug oppure no Volendo Potrei Fare un video in futuro Per Per confrontare I bug Di The Last of Us Part 1 Remake E The Last of Us Remastered Visto che Non Li so fare tutti Perché ad esempio Quelli Delle travi di legno Non li so fare Però Però Posso dirvi che la maggior parte Dei trucchi Li conosco Comunque non fa niente In questa parte Non ho capito il motivo Non corre Joel ogni tanto Non salta Quindi non scavalca nemmeno Non può rompere i vetri E perché Non lo so Vabbè E io che già so Che Verrà lungo il video E il gioco Vuole a Tutti i costi Farmi fare Due video Di questa zona Come vedete Ellie è sempre più impaziente Di trovare una luce O comunque Qualcuno di vivo Che le dice Vieni a Creare il vaccino Insieme a noi Non so come si può dire Una frase del genere Cioè perché Sì serve Ellie Però non è Ellie Che crea il vaccino Ellie è il vaccino Non si sa in realtà Ancora Semplicemente ad Ellie E' successa una cosa Che forse A detta Del gioco Non è capitato a nessuno Poi magari scopriamo Nel 3 che ci sono Un sacco di persone così E che non serve a niente E che quindi Joel l'ha fatto benissimo Magari è così In futuro Però lo scopriremo solo A fine era Playstation 5 Perché sì Sicuramente Se E credo che sarà Sicuro Quando uscirà Una parte 3D Della Stovasa Sarà a fine era PS5 Sì Atle a 8 clickers Sì No fireflies Ata Nogiorno Oggi Noi In tutto quello di questo Risorgto Noi Si Just keep searching, we'll find something That's four pallets of lab equipment All packed up and ready to go Now, the big question is What do we do with all you guys? They say the tainted batch needs to be put down You know what I say? They say screw that Who made a bigger sacrifice than you, right? Anyone deserves to run free out there Hey, easy Oh, shit Oh, no It did me Oh, my God I'm sure glad we didn't mess with them monkeys He didn't say where they went I know, let's just keep looking Bravo, Joel, hai finito di parlare proprio preciso Quando stavo per prendere la piastrina Così per dirvi che qui si trova una piastrina Non l'avete vista Tre nomi? No, in realtà sono due cognomi o nome Comunque Andiamo avanti Ormai in realtà abbiamo finito Solo che durerà tanto questo episodio Ma in realtà non so se durerà tanto Basta dirlo, basta così, va bene L'ho detto fin troppe volte Forse in realtà durerà meno di tutti gli altri episodi Solo che il mio counter in questo momento È a 27 minuti e poi non so voi a quanto state Comunque andiamo avanti E c'è una scena da vedere Quindi starò zitto E c'è una scena di chiudere 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 Mi ero fermato e girato verso Joel Perché pensavo di voler finire l'episodio Ma in realtà no Ho deciso che continuo Perché il mio counter è ormai a mezz'ora Però no, non mi interessa Ho detto che voglio finirla questa zona Quindi la finiremo E morite, grazie mille Mi ha droppato un'accetta Ma la mia c'ha 8 shot Quindi la lascerò Facciamo che spariamo Ma in realtà ho sempre sparato Quindi continuiamo a sparare Magari prima o poi Ma credo la maggior parte delle volte O forse no Mi uscirà qualche headshot carino Sperando di non morire E quello è il mio obiettivo E pensandoci bene Non è che avevo chissà quanta scelta in realtà Dovevo sparare Non so se per forza o meno Magari stealth si può fare questa parte Ma è davvero difficile Forse riuscite ad ucciderne due Massimo tre stealth Ma non tutti Ma c'è qualcuno Ah, eccoti, ok Stavo sentendo qualcuno di strano Com'è che con due colpi Grazie Non è che con due colpi non è morto Finalmente posso saltare dalle finestre Cosa che prima non si poteva fare E corre Joel finalmente Non ho capito perché capitava quella cosa prima Non lo so Forse perché doveva capitare qualcosa Infatti non è successa Una cosa di script Che sarebbe dovuta capitare con una luce Non nel senso le luci Proprio una luce che illumina Praticamente andando avanti Ed entrando nel tunnel di prima La visuale si sarebbe dovuta girare da sola Verso una luce che stava per cadere Però non è capitato Non so perché Però non fa niente In realtà Immagino che sia per quel motivo Che il gioco si è buggato Comunque Voglio provare a fare Una cosa che serve Per le speedrun Lo sto facendo lentissimo in realtà Ma non lo so fare In realtà Le speedrun non lo so fare Però Questo serve per la speedrun Cioè buttare un fumogeno giù Così chi arriva È stordito E voi potete correre direttamente alla fine Ma io Non voglio correre direttamente alla fine Voglio Uccidere questo Voglio uccidere tutti in realtà Non solo quello E appena questo tizio muore Ed è appena morto Ce ne mancherà solamente uno A meno che sopra Non ce ne sia qualcun altro Comunque sono riuscito A salvarmi Ellie ovviamente si doveva mettere Proprio dove mi dovevo mettere io Ma comunque Dovrei riuscire a Cecchinare in testa questo Che tanto si è messo Oltre dietro al vetro E quindi è inutile Perché l'avrei potuto colpire lo stesso Rompendo il vetro Ma poi con la testa proprio fuori dal vetro Oltre dietro al vetro What do you want me to do? Move What? Move! Oh man Joel? I'm going to need you to pull Okay All right Are you ready? One Two Three Go Pull! Pull! Come here Provate solo ad immaginare il dolore Che potrebbe fare una cosa del genere Non solo siete caduti da Facciamo un primo piano Con la schiena E quindi già questo fa male E poi c'è uno zaino E in quello zaino ci dovrebbero essere delle armi Che sono fatte di metallo o ferro Comunque Che vi hanno quindi spinto nella schiena Oltre al fatto che non abbiamo più Il cecchino Il pompa E l'arco Ok Vabbè Lasciamo vedere questo Come vedete Gli imprevisti potrebbero capitare O sempre In qualsiasi momento Ci stava andando praticamente tutto bene Eravamo riusciti ad uccidere tutti Solo che Una persona Da sola È riuscita a spingerci giù E a farci del male Ma lui è morto Quindi in realtà Ce la siamo vista meglio noi Ok Sto provando a vedere Com'è questa parte Ma in realtà Credo sia uguale Ho sbagliato Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Sì Vabbè Addirittura Mi è partito il dito Un po' di troppo in alto Comunque l'ha ucciso Ellie Quindi va bene così Mi piace un sacco Il fatto che Ellie Si preoccupa tantissimo Per Joel Ma Joel Non se ne importa Vuole semplicemente Andare avanti E basta Ma anche Già solo Alzarsi Dopo una cosa Del genere Significa che Joel Vuole semplicemente Salvarsi Oppure salvare Ellie E credo in realtà Che la prima cosa Sia salvare Ellie I'm gonna die Behind you What? Ellie The kid's got a gun Push out Oh shit Oh shit You little shit Oh Joel Here Stand up Put your armor on me All right, let's go Swear to God I get you out of this You're so singing for me You wish Wait here I'll get the door Take your time Come on Fuck Oh shit Come on Just get the horse All right Can you get on? I think we're safe Joel Joel Shit Joel Get up Get up You gotta tell me what to do Come on You gotta get up Joel E quindi ragazzi Siamo arrivati alla fine di questa scena bellissima e anche un po' strappalagrime solo che possiamo trattenerle tranquillamente direi che allungherò la schermata nera quindi in questo momento starò parlando con la schermata nera prima che esca la scritta inverno perché si il prossimo episodio inizierà in inverno perché ragazzi vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti lasciate un like se vi piacciono. Vi ricordo di commentare e condividere con tutti i vostri amici e se volete in descrizione c'è il link per il mio instagram vedete a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.